buongiorno benvenuti questa è la segna stampa di oggi 23 maggio intanto ringrazio tutti quanti quelli che ieri ci hanno visto a matrix è la quarta puntata poi ci sarà domenica l'ultima puntata di questa maratona elettorale abbiamo fatto un record storico abbiamo fatto più dell'11 per cento si tratta degli ascolti stellari per matrix quindi grazie a tutti quanti voi che siete fedeli a matrix nonostante diciamo che in palinsesto non è che sia proprio una specie di come possiamo dire di pietra preziosa scoperta bisogna darla un po scoprire ecco mettiamola così cosa è successo nel nel mondo politico insomma le solite cose vi dico la verità piuttosto noiose quindi sarò con voi molto stringo stretto sulle cose diciamo di politica perché fino al 26 sono tutte chiacchiere qua quara qua salvini decreto sicurezza insomma forse l'unica sintesi che si può fare che il decreto sicurezza che divide questo governo ovviamente rimendato dopo il 26 l'interpretazione più interessante che secondo me oggi qualcuno fa sui giornali e che fino al 26 ovviamente non si deciderà nulla l'unica cosa che succederà dopo il 26 che si deciderà in funzione dei nuovi pesi elettorali che le urne europee avranno stabilito ma non è che per il resto cada un governo si cambieranno appunto i punti di buongiorno salvatore da londra si cambieranno i pesi all'interno di questo governo anche se in maniera informale poi ci sono le solite minchiate è perché sulla politica ce n'è di tutti i giorni il fatto quotidiano il si tratta ovviamente come voi sapete dell'ausorgan del movimento cinque stelle ogni giorno si diverte nel suo giustizialismo preconcetto a dire gli in quelli che non sono candidabili gli impresentabili volta gabbana cioè loro cercano di dare un tono moralistico a quelli a cui loro non piacciono non so adesso voglio dire non riesco a capire per quale motivo devono piazzare il faccione di taradash vi può stare più o meno simpatico e non sarebbe presentabile ma perché taradash non è presentabile perché non ti piace e allora questo è un altro momento allora tu prendi no e dici taradash mi fa schifo ma siccome quelli sono dei moralisti di merda avete capito il concetto moralisti di merda perché io li trovo insopportabili sono solo loro bravi sono solo loro non corrotti sono solo loro sono i savonarola italiani che sempre devono esistere insomma loro danno questi giudizi con il ditino madonna mia una roba orrenda comunque oggi l'altro moralista quello che sempre ha beccato tutto degno compare del del fake quotidiano cioè come si chiama cacciare un filosofo che quando ha provato a fare politica ha fatto un disastro come si sa a venezia altro che brugnaro la sua venezia era un disastro totale il filosofo oggi se ne dice una delle sue sapete qual è una delle sue che il movimento 5 stelle il pd dovrebbero fare un fronte comune contro salvini e co vabbè queste sono diciamo le sintesi politiche più succose ma mi rendo conto piuttosto banali di giornata belpietro oggi sulla verità costruisce un pezzo andandosi a riguardare tutti i titoli del core della sera dell'ultima settimana la tesi un po ardita di belpietro e perché mi sembrerebbe incredibile è che cairo sta manovrando il core della sera per bombardare questo governo e sapete perché perché cairo vuole fare il presidente del consiglio cioè vuole e mira a palazzo chigi può anche darsi nei prossimi anni vedremo di tutto abbiamo visto berlusconi fare palazzo chigi quindi vedremo se cairo avrà quella capacità di fare anche il salto in politica ieri dovete sapere che si è tenuta nel totale silenzio dell'opinione pubblica nel totale silenzio delle persone che lavorano davvero nel totale silenzio dell'italia produttiva nel totale silenzio tranne che dei marchettari dell'informazione l'assemblea di confindustria che un tempo insieme all'assemblea di banca d'italia era uno di quei per noi giornalisti economici di quegli eventi clou oggi non se ne occupa nessun giornale se non forse la stampa che ci apre gli altri c'è un pezzullo di dario di vico che riesce a scrivere nelle prime tre righe non resterà negli annari della storia nonostante boccia ma comunque era una di quelle solite rituali in cui tu vedi in prima fila dietro vedi più o meno dei degli imprenditori falliti in prima fila vedi più o meno degli imprenditori pubblici e poi vedi dei parvenù che sperano di ritrovarsi a contatto con qualcuno che gli può fare un po di networking e quello ci sta il networking dell'assemblea di confindustria l'apprezzo come tutti i networking che ci sono però è una specie di circolo verdure di politici e di imprenditori che sperano di darsi una mano gli uni con gli altri boccia ne è il classico esempio la sua ultima assemblea una brava persona sicuramente lo conosco ma totalmente voglio dire non in grado di guidare un insomma la rappresentanza di una grande impresa italiana di un grande gruppo di imprenditori italiani insomma questo oggi dovrebbe fare cita bergoglio cita stiamo forse parlando neanche troppo se non per il fatto e la notazione politica è importante che oltre a le aziende pubbliche un po di aziende fallite in concordato preventivo un po di vecchi amichetti della roma che conta insomma l'unica politica che di fatto stava lì era quella del movimento 5 stelle e l'unica ovazione che sono riusciti a tributare a mattarella allora che mattarella rappresenti il peso dell'industria produttiva e dell'italia che cresce della tecnologia della competizione del liberalismo mi fa molto ridere mattarella e l'ovazione a mattarella era un'ovazione a se stessi questo era il pezzo che forse avrei letto perché era l'ovazione a un'organizzazione che non conta più nulla e che invece in realtà ancora per alcuni conta proprio per il fatto che il presidente della repubblica si è presentato là se il presidente della repubblica viene a casa mia io ne sono compiaciuto ma non tanto perché lui possa dire delle cose straordinarie perché l'istituzione che riconosce me stessa sono come due istituzioni che si sono auto come possiamo dire riconosciute il fatto che ieri ci fosse mattarella era importante per la confindustria non già perché mattarella ha un ruolo politico eccetera ma perché è un'istituzione che riconosce un'istituzione morente è il come possiamo dire è il galleggiante che hanno dato a qualcuno che stava affogando bene hanno quindi fatto ad applaudirlo perché l'unica cosa rilevante di ieri è la presidenza della repubblica in quella sala invece una confindustria seria si sarebbe dovuta occupare del fatto che in questo paese hanno tolto l'ilva ai riva con un esproprio senza una condanna avrebbero dovuto occuparsi di una notiziola che c'è oggi solo 24 ore cioè che i vertici di fin meccanica il signor orsi e il signor spagnoli che furono arrestati per corruzione internazionale ci hanno fatto un mazzo così per famose mazzette in india bene sono stati assolti anche definitivamente in cassazione questo forse sarebbe un tema che dovrebbe interessare confindustria che invece sta zitta fa pippa perché c'ha paura perché c'hanno paura anche loro di mettersi contro i magistrati che sono là che si ricoccolano in queste inutili assemblee cittadine dove in genere i presidenti sono persone che hanno aziende da 500 mila euro di fatturato salvini scrive una lettera incredibile oggi a libero perché dice non è vero io sui voli di stato voglio fare chiarezza non vi permettete di insinuare nulla in effetti i 12 voli 60 voli 40 voli di salvini sono nulla rispetto a quelli degli altri ministri degli interni come fa vedere una bella grafica oggi della verità ma io dico anche chi se ne frega un ministro degli interni possa viaggiare con gli aerei di stato è il minimo che io posso pensare in una grande potenza industriale come la nostra vi segnalo invece una cosa incredibile che i fenomeni dell'antimafia cioè leo luca orlando cascio bene fava bene musumeci presidente della regione sicilia non si presentano oggi all'anniversario di capaci della strage di capaci che come dice giustamente salvini ma che come dice giustamente chiunque ascolti questa zuppa veramente non ci dovrebbe far dividere perché tutto puoi dire a salvini tranne che un mafioso o colluso con la mafia ti può non piacere lo puoi trovare insopportabile sulle sue questioni dell'immigrazione lo puoi trovare antipatico quando cita la madonna il rosario ma se il ministro degli interni va alla all'anniversario di della strage di capaci questi tre signori antimafia sindaco e presidente regione sono pregati di presentarsi anche loro perché quella quella roba lì non è per salvini è per il signor falcone per la sua scorta e per i tanti morti di mafia e se questi scemi non ci vanno sono esattamente quello che noi sempre diciamo dei giornali giornali cioè sono e piegano la lotta alla mafia ai loro cavolo di interessi politici chiaro questo è il punto che si dovrebbe dire e ci potrebbe anche andare per quanto mi riguarda di maio ci potrebbe andare anche belzebù ma se va lì il ministro degli interni ci si partecipa il rispetto dei morti e non facendo gli offesi leonardo e come si chiama come si chiama quello là orlando non si presenta orlando cascio non si presenta non mi fate dire l'onu invece di cose importanti oggi se ne occupa non si occupa più del razzismo italiano per il decreto sicurezza che comunque non passa cioè l'hanno bocciato prima che pazzasse veramente dei fenomeni ma del fatto che se ne occupa mattia feltri ma anche stupendo parente oggi sul giornale del fatto che siri ed alexa che sono i due intelligenze artificiali su iphone e su android o scusatemi su amazon hanno una voce femminile e non va bene perché perché ci vuole quella voce femminile sensuale insomma voi vi rendete conto che esiste un organismo internazionale che si occupa di questa roba di siri ed alexa delle loro voci voi dovreste andare là e dire scusatemi ridatemi anche un euro che vi do in più ridatemi anche i soldi della segretaria di questa piccola organizzazione che si occupa ridatemi la luce non voglio pagare la luce a questi cazzoni che si occupano della lingua di siri ed alexa eppure nel palazzone dell'onu pagato da tutto il mondo ci sono dei funzionari col passaporto diplomatico e con un atteggiamento diciamo susseguioso rispetto a noi cretini che ci spiegano che queste voci sono tra l'altro fatto da aziende politicamente corrette come sono queste formalmente queste due ultima cosa davvero interessante la mei molla ormai è chiaro voteranno mi sembra da domani si vota in inghilterra e da venerdì invece da oggi si vota in inghilterra mentre venerdì probabilmente la mei sarà dimissionaria porro a letto i falsari gianluca no non l'ho ancora letto non sanno proprio cosa fare dice luisa non parenzo non confondiamo e tanti saluti a voi pazzesco pure le voci dice oggi su instagram gli amici che ci seguono io vi direi grazie ancora per ieri sera è stato un successo straordinario ma tutti quanti voi che mi ascoltate in questo momento e nei prossimi momenti ricordatevi la vera sfida per noi che facciamo giornalismo su mediaset sarà domenica dalle 22 e 30 domenica su canale 5 i risultati elettorali li dovete beccare da me da noi su matrix non ve li perdete una doppia maratona domenica su canale 5 matrix lunedì quarta repubblica su rete 4 insomma l'informazione per chi non vuol fare come confindustria come quelli che non si presentano all'antimafia ecco l'informazione è da noi ciao 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 ciao